Benvenuti ragazzi sono Gio e questo qua è lo speciale degli 8.000 iscritti che tra l'altro gli 8.000 iscritti l'ho raggiunti da poco grazie a Midino che sono finito nel suo top 5 dell'altro ieri quindi andate a vederle E infatti oggi sono con lui, ciao Midino Bella a tutti ragazzi, sono Midino come avrete capito credo, spero, si E infatti sono con lui per fare questo kill race, però un kill race particolare perché io sendo uno sniper e lui diciamo uno che gioca tanto forte con le armi come un pump stopper Lui abbiamo deciso di fare E tanto sega con il cecchino Esatto Abbiamo deciso di fare un po' un compromesso, giochiamo con l'argus che non è un'arma, non è un'arma normalissima ma non è anche il cecchino, è un po' un misto Quindi facciamo questa cosa abbastanza simpatica e creativa Bene ragazzi siamo partiti e comunque una cosa che ne aveva accenato prima Alec che questo video, questo video particolare sarà molto particolare soprattutto perché alla fine nei kill race normali si dice all'altro quanto ognuno fa Solo che questa volta non diciamo il nostro punteggio quindi siete praticamente obbligati ad andare sul cane dell'altro e vedere quanto ha fatto Infatti quindi E così è abbastanza utile Passate da lui a vedere la sua e voi passate da me a vedere la mia Mi ricordo su The Gops 2 che ogni bot è soldato, figa ma ce li nucleare in un secondo Dove sono? Davvero Ma sono fortissimi ragazzi Non si possono usare Cazzate vero tipo ruin No 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 Cioè io c'ho l'overdrive però ogni tanto lo uso ogni tanto no Comunque ragazzi i bot tra l'altro C'hanno tutte le... Ragazzi appena me l'ha detto l'ho usato Ok ok allora possiamo usarlo Possiamo usarlo E tra l'altro tipo i bot a me tirano un sacco Mi tirano un sacco di strudenti e di granate cazzo E io ho messo la maschera d'artica apposta No no maiale Madonna oh Raga è molto... sono molto più forti che i giocatori in pubblica Porca troia Ragazzi comunque vi sfido anche a voi a farla in privata dei ragazzi vostri per vedere quanto fate Porca miseria Più caldo raga quello che bisogna sottolineare Che magari qua non si capisce che su deathmatch Loro sono 18 e sparano tutti a te Cioè è quello che ci fa il problema Che non è tutti contro tutti che si sparano anche tra di loro Essendo deathmatch sparano solo a te E poi sei nei cazzi perché Gioca contro 18 bot Che comunque non sono neanche a recluta Quindi non sono scarsissimi che sparano tutti solo contro di te Non è proprio... L'haw si può tirare? Sì sì C'è le wav contro attacco i visats Si dai Ok cazzo avremo No il visat non metto Non usarlo ti credo Ok ok tranquillo Tanto non penso di arrivarci Si sarei impossibile santo dio Overdrive Si il bello è che lui dice queste cose adesso sarà tipo a 3000 Ma si Proprio a 3000 sono Te sarei a 60 conoscenti Somma Madonna raga Diferiscono ovunque Ma io mi piace Un sacco di fail Io sto facendo un casino di morti Altro che Diciamoci solo quante morti abbiamo Quanti morti hai fatto Dieci Anch'io Ecco a posto A posto Undici adesso Anch'io adesso sono morto adesso anch'io E carini siamo raga Spaccate Like assolutamente per La sincronia No Si figli di puttana Hanno messo anche il clone Milioni Ce ne ho Hanno usato i cloni Quello delle Delle Già sono tanti Oh si vabbè Mi fanno anche i quickscope Raga è impossibile Su black ops 2 erano molto più scarsi i bot c'è da dire E si ragazzi provate con i vostri amici anche a forza cosa è divertente più che altro Provate anche voi col cecchino Oh Si ma io mi immaginavo se te sta roba me la facevi fare col cecchino arrivavo si e no E' questo E' questo punto Ma non pensare che sia molto più forte io eh Faccio solo trisci Daio Sono già quindici morti Continuo a morire Infine sono un coglione A tirarlo a vi son morto Ma come hitmarker da un metro Madonna ho continuo a morire Bella raga Ogni tanto busco anche una più nella facecam perchè No io no 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 Cazzo sto tipo impegnatissimo Sono tipo super concentrato Anche io ti giuro Ho paura dopo di rivedermi la facecam con la faccia Cioè io neanche a giocare contro Neanche a giocare quando sono a ventotto su batman Ci sono così concentrato Mi sa che sto anche smashellando un po' con la bocca Figa quando faccio No vabbè puri fiera No corazza cinetica merda Oddio 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 Quanti sono No tipo Dai No lì ci stava L'elster non lo posso tirare No vero? No 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 Se avrei così che uccidono Quanto manca a te? 52 50 52 52 54 Aspetta te Tu uno 50 Ma quanto sono infami quando tirano i cloni cazzo che non capisci niente No Madonna Madonna Però esser sincero Che alce Io sono sicuro d'aver perso raga E insomma Col cecchino Vi sa che andava anche Cioè almeno a me andava medio Più l'altro quando facevo Che riesco con i miei amici così A Per far così per passare il tempo Forse No A me Io direi di no perchè col cecchino sono troppo sega Per Perché andasse meglio Qua 20 secondi No No Morire Dai Dai Ancora Dai Che Me ne ha anche 3 alle 200 No Me ne ha 3 alle 200 Dio Sto scherzando Finita Finita L'ultima L'ultima di me No Ragazzi Adesso c'ho un'ansia assurda Ragazzi Adesso io vi invito a passare sul canale di Gio Che trovate qua sotto in descrizione E andate a vedere la Kill Race Anche la sua Così vedrete chi ha vinto Io sono arrivato a Lo leggete qua E poi andate a vedere da lui Andate ovviamente anche da Kai di Midino E comunque ringrazio sia Midino per l'ospitalità Sul suo canale Anche per essere venuto sul mio E grazie ancora per gli 8000 iscritti ragazzi Al prossimo video Bella Bella Ciao